Bella a tutti ragazzi, io sono FR7 Come avrete già letto dal titolo Siamo tornati con un unboxing Sì, oggi è l'unboxing Delle cuffie da gaming Della Logitech Che vi lascio sotto il link In descrizione Secondo me saranno molto belle E... Apriamo Allora il pacco è abbastanza grande E' praticamente Tanto così Cioè sarebbe una ventina 21-22 cm Per 18-19 E' onesto Apriamo Ho trovato l'apertura Io mi ritengo Il video finisce qui No ragazzi non finisce qui Allora Apriamo con la vostra visione Qui devo tirare su Però ce l'ho scotch E io non ho le forbici Quindi andremo di forza brutta Bene La forza brutta è servita Ancora una volta Si apre C'è questo C'è da tirare così Ok E il nostro pacco All'interno di una scatola Questa La vedete Molto bella Fa un volo E' anche caduta Bene Allora il pacco Quando lo aprite Si presenterà così Con le cuffie qui Noi togliamo Questa parte Così che voi Vedia Porca miseria Se tolgo Questa parte Mi cade già qualcosa Allora Allora Devo dire Che Qua abbiamo Il jack delle cuffie Abbastanza lungo Poi qua Cavetti strani Di cui non so Che cosa servono Ovviamente qua E non Perché hanno messo Le cuffie Attaccate qua E hanno chiuso Ah ma questo Non ci serve Qua abbiamo Il biglietto da visita Per la logitech Se lo vedete No Non si vede niente Perfetto Qui abbiamo Le istruzioni Piegate Da Cisnas E questo Lo valuterò Ah si Va per pc PS4 Xbox One Nintendo Switch E altre Molte altre cose Allora Già che Non vedo l'italiano Mi fa preoccupare Nell'istruzioni No rega Sono le istruzioni giganti Come quelle del mouse Se non avete visto Andatelo a guardare Il video del mouse Ma forse Forse non l'ho fatto Il video del mouse L'ho fatto No Ci ho provato E poi Mi è venuta Una merda Sì Ci ho provato E' venuta Una merda E' stato triste Però Si buggava Continuamente Però le istruzioni Del mouse Erano come questo Solo un po' più grande Ma solo un pochino E praticamente Noi qui abbiamo Le seguenti lingue Popozco Latviskli Lievduk Spreskli Allora Turchi L'italiano Non lo vedo Da Cisnas Questo non va Affatto bene Ragazzi Oh l'italiano Uè Mamma mia Pizzeria Ma serve L'italiano Ok Ok E' abbastanza normale Il pacchetto Si trova così Molti miei amici Anche ce le hanno Per questo ho voluto Comprarle anch'io Perché Sono le più vendute Su Amazon Da quello che ne so Dai miei compagni di classe Sono Sono ottime A un prezzo Di 36 35 euro Direi che Non è Non è tanto Per delle cuffie Della Logitech Una delle Marche migliori Di vendita Per il gaming E qui Apriamo Il momento Godurioso Aspettate che Cerco di inquadrarvelo Perché oggi Sono senza treppiedi Perché Non è che si è rotto Che Mi scivola Ma destra Sinistra Avanti Indietro Giù Su Quindi Mi viene un po' Difficio Qui apriamo Sto robo E' lungo come il mio braccio Forse Si All'incirca Lungo come il mio braccio Ho battuto Contro il muro Muro dal cavolo Allora Puzza di cina Si signori Puzza di cina Allora Le cuffie Si presentano Così Qua Vabbè Il microfono Che si può fare Anche Così Che Tu lo tieni Track Aspettate Prima Togliamo la pellicolina Ma che figo E anche E' Molliccio Molliccio Vabbè Qua è assolutamente Allungabile Quanto Non quanto vogliate Però abbastanza Abbastanza Si si Allunghiamo un pochino Da tutte e due parti Vediamo come sono Let's try Devo dire Allora Si Il rumore Lo sento poco Cioè Prima Mi sento Molto di meno La voce Ma non l'abbastanza Quel minimo Indispensabile Poi Il cavetto qua Che ho appena Staccato Si presenta Abbastanza Lungo Molto Lungo Aspettate Si Diciamo che Lungo Due No Due metri No Un metro e settanta Approssimiamo Cioè Poi qui Abbiamo il nostro Solito Sticker Della Logitech No Aspetta Aspetta Devo capire Come metterlo bene Teoricamente Sarebbe Così Solo che qui Girato E qua Al contrario Signori Queste cuffie Sono abbastanza Un potento Perché Il bello Che Guardate Track 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 Qua abbiamo Il rotellino Del volume In su Di più In giù Di meno Molto buono Das is good Bom Signori Queste sono Le nuove cuffie Da gaming Spero che L'unboxing Vi sia piaciuto Lasciate like Commentate Iscrivetevi Attirate la campanellina Condividete Con chiunque Persona Voi conosciate Per far crescere Il canale Per avere Sempre più video E Signori Noi ci vediamo Nel prossimo video Commentate Se volete Altri video Di World of Tanks Perché ve li porterò Sicuramente Oppure di Call of Duty Brawl Se volete Oppure Anche Non mi viene Non mi viene Beh Scusate Ho appena mangiato La pizza Quindi Questo video Lo sto registrando Venerdì sera Sì Gioca la nazionale italiana Spero che vinca Se perde Ti ferò Inghilterra E Signori Io vi saluto Ciao 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 Grazie.